Abbiamo alcune priorità anche e soprattutto nei rapporti con lo Stato, abbiamo una questione finanziaria aperta, oggi siamo a Roma sia per la conferenza unificata che per la Stato-Regioni per alcune problematiche, ma abbiamo anche altri appuntamenti per cercare di dirimere una questione che vede la Regione e lo Stato in momenti di discussione sulla questione del risanamento della finanza pubblica e quindi è una questione su cui dobbiamo avere delle garanzie da parte dello Stato perché le nostre prerogative, visto già il contributo dato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in questo ultimo quinquennio, è stato un contributo molto pesante, quindi abbiamo necessità di pianificare una legge di bilancio regionale per l'anno prossimo per il triennio che dovrà affrontare una serie di tematiche e quindi la questione finanziaria diventa preminente. In questi giorni quindi incontreremo sia il Vice Ministro Morando che il Sottosegretario Bressa per cercare di advenire una soluzione che potrebbe evitare il contenzioso con lo Stato che è già in corso, già in atto, ma che è ancora aperto per l'ultimo grado di giudizio. Grazie. Grazie.